Salve Regina, Salve Regina Cari figlioletti miei, anche oggi sono con voi e vengo a donarvi l'amore di mio figlio. Sono contenta di tutti voi che siete venuti per incontrare il Re della Pace. Cari figlioli miei, guardo nel profondo dei vostri cuori e vedo smarrimento, ed io questa sera, come vostra madre, voglio nutrirvi del suo amore. Ma se in voi non nasce quel forte desiderio di scoprire la bellezza della preghiera, voi non sentite il battito del vostro cuore e vi sentite senza entusiasmo. Io non faccio altro, figlioli miei, di stare con voi e di insegnarvi come una madre insegna ai propri figli. Desidero che ciascuno di voi impari a conoscere di più le Sacre Scritture, affinché le possiate percorrere in un cammino di santità. Occorre essere liberi e sapersi abbandonare nelle braccia del Padre per saper volare. Più siete semplici e umili e più il vostro cuore si riempie di pace, affinché diventiate creature libere. Figlioli miei, ricordatevi che voi non siete soli. Mio Figlio Gesù è sempre in mezzo a voi per donarvi il suo amore, perché Lui è amore. Pregate, 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 pregate affinché possiate assaporare quell'abbraccio che solo il Padre sa donare. Vi ringrazio, figlioli miei, della vostra presenza. Io vi benedico, affinché voi siate portatori di pace e di gioia. Per essere i miei apostoli in questi tempi, c'è bisogno di testimoniare le meraviglie che Dio compie su ciascuno di voi. Vi amo, figli miei, e non voglio che nessuno di voi si perda. In questo mondo dove Satana vi sta avvolgendo, facendovi credere che Dio non c'è. Pregate per non cadere nelle sue mani. Occorre, figlioli miei, liberarvi dal peccato. Vi ringrazio che avete risposto alla mia chiamata. Grazie per la visione.